Io, in questa conferenza stampa, nella quale presentiamo una proposta di legge che può essere innovativa, che riguarderà i miei figli, ma riguarderà i figli di tutte le persone che stanno qui, riguarderà, io spero di no, ma magari anche persone che si trovano qui e che avranno difficoltà magari nel lavoro e possono avere un ammortizzatore sociale, lo Stato che li forma e li reinserisce. Allora, in una conferenza stampa come questa io posso dire solo una cosa. Noi ci troviamo alla vigilia di un evento che ormai conoscono tutti, che sono le dimissioni del Presidente della Repubblica. Non so quando saranno in breve, ma saranno a breve. Ora, lo abbiamo visto monitare, mandare messaggi alle Camere in questi anni molti politicamente discutibili. L'ultimo riguardava la questione dell'indulto, che poi il Governo ha fatto con gli svuotacarceri, che sono un indulto mascherato e hanno peggiorato la sicurezza di questo Paese. Allora io dico al Presidente della Repubblica, come ultimo atto del suo mandato, faccia una cosa per cui essere ricordato. Mandi un messaggio alle Camere e chieda prioritariamente di approvare il reddito di cittadinanza per 10 milioni di cittadini. Grazie.